eccoci in un nuovo video test e sarà veramente uno spazio incredibile avete già visto le mie spalle sono ad agnano presso lo store dotoli m2 perché andiamo a vedere un po che cosa ci toccherà provare questa volta eccolo qua maurizio già pronto ciao maurissima fantastica che sempre bella casa mv agusta direttamente da ski run è arrivata sta bellissima f3 demo che lo staff del marketing e della comunicazione di mv ci hanno concesso per questo fine settimana maurizio deciso di innanzitutto raggiungere formia perché ci sarà un evento incredibile il roby tour 16 anni 3.000 moto l'anno scorso 5.000 persone una vitina importantissima e l'evento che apre un po la stagione post estiva di tutte le uscite ma soprattutto è un momento in cui ci si incontra in tanti in tanti e diversi bellissimo io personalmente non ho mai partecipato visto qualche immagine ho visto che è molto coinvolgente bella l'atmosfera una diversità di moto incredibili bike di tutti i tipi è bello che un evento organizzato col cuore vero invece se parliamo di f3 che cosa mi sembra di fare parliamo di eccellenza italiana parliamo di un design da sbattere a terra perché ogni volta che la vedi è fantastica prestazione al top ciclistica è un eccellenza del made in italy e è una delle cose belle che sono rimaste in italia fortunatamente passione pura assolutamente eccellenza e passione pure e noi ci mettiamo le mani sopra va bene aiuto trattate la bene mi raccomando ciao 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 ciao